Antonello Cucuru, ho 67 anni, avevo problemi sicuramente di masticazione, di relazione anche con le altre persone perché giustamente avevo un po' di difficoltà a mostrarmi col sorriso che purtroppo non potevo esprimere perché mancandomi un po' di denti, insomma, avevo un sorriso un po' bruttino. Il sorriso sicuramente, adesso posso esprimermi almeno, almeno credo, magari non ho un bel sorriso però quando uno sorride spontaneamente e può esprimerlo è sempre una cosa gioiosa, insomma. Prima di venire qua ho fatto anche altri preventivi, mi sono andato anche in altre parti, ho avuto un po' di diffidenza e quello che mi ha dato sicurezza invece a venire qua è la figura di Dottor Palmas che devo dire è una verità, ho avuto anche l'onore di conoscerlo di persona, è una bravissima persona, squisitissima non me l'aspettavo che fosse così, proprio alla mano e alla buona, si vede che è un sardo vero. Il consiglio che posso dare è che qua ci sono persone serie, veramente ho trovato una serietà, una professionalità delle persone, dei dottori, di tutti, anche gli infermieri, di tutto lo staff che lavora in questi laboratori, in questa clinica sono meravigliosi e si comportano, diciamo che ti mettono a tuo agio. Ecco, non posso dire perché di più non si potrebbe dire di più perché effettivamente sono veramente specialisti seri.